Cari amici benvenuti alla mia consueta rubrica letteraria. Oggi recensisco un nuovo libro, un libro tecnico, un libro di marketing. Però prima ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità che escono sul mio canale. Allora, sistemiamo le cuffie e siamo pronti per recensire We are the glitch, il nuovo libro di Simone Puorto. Allora, We are the glitch è un libro. Un libro non è altro che un insieme di pagine che unite tramite incollaggio, poi non chiedetemi come si fa perché provate voi a incollare dei fogli a farli rimanere comunque uniti, è veramente molto difficile, però chi fa i libri è bravo a far quello. In ogni pagina poi ci sono tante scritte, vedete, è tutto scritto, cose che hanno un senso logico e non sono scritte a caso, sono composte da tanti segni, ogni segno richiama un fonema, quindi a un suono. In questo caso questo è il fonema della lettera W. Quindi questo invece è una E, quindi in teoria questo dovrebbe chiamarsi, se non siamo nati ieri, W, però W non vuol dire niente e ci hanno insegnato fin da piccoli che si dice We, in italiano, We. Però siccome questa è lingua inglese si dice We, che significa Noi. Stiamo parlando di un livello, stiamo già salendo di livello. L'autore Simone Porto, famoso scrittore di libri, che scrive in italiano, è lui italiano ma il titolo è inglese, già questo ci fa capire che capoccia ha questa persona, perché veramente c'è questo qui e non aggiungo altro. E niente, dicevamo, un libro è tutto a testo, ve lo dico subito, non ci sono figure, non ci sono disegni, non ci sono tabelle, è tutto a testo. Quindi è un libro che va letto, non va fruito in maniera un po' più informale, come piace a noi, guardando delle figure, magari con delle vignette simpatiche che alleggeriscono un po' anche questa lettura. Oh, se fanno gli audiolibri ci saranno una ragione. Quindi, comunque dicevamo, il libro parla di We are the glitch, di cosa parla? Parla di accoglienza, perché Simone Porto è un esperto del marketing dell'accoglienza. Quindi si parlava di intelligenza artificiale, web3, metaverso, tutti i termini che fino a poco tempo fa evocavano dei scenari distanti e distopici, ma che si sono ormai affermati come elementi chiave nella definizione del nostro presente. Oh, è lungo, c'è tutto scritto qua, nel dietro retro del libro, dietro libro, retro libro, uguale, lo capite? Vi leggete questa roba qui e già avete un'idea del contenuto del tomo, perché libro lo puoi anche chiamare tomo, cioè ci sono dei sinonimi, c'è delle parole che vogliono dire la stessa cosa, che questo è anche un mistero, perché esiste la parola tomo e la parola libro. Questo ci vorrebbe uno studio o qualcuno che approfondisse questi argomenti, perché io penso siano interessanti. Sì, non sarò io quella persona, ve lo dico subito, però può essere interessante. Allora, dicevamo, c'è un sacco di roba scritta, però chi ha inventato i libri dovrebbero dargli veramente il Nobel, perché ha creato una sezione iniziale del libro che si chiama Indice, che non ha niente a che fare col dito, attenzione che serve indicare, campanella, like, mettete mi piace, condividete. Esiste una sezione che dicevamo, dove è qua? Eccola qui, Indice. Vedete? Qui non so perché abbiamo lasciato tanto spazio bianco, forse volevano riempire più pagine, non si capisce, potevano iniziare un po' più su, però Indice ti dà un'idea di quello che ci sarà. Quindi vediamo, capitolo 1, Introduzione all'intelligenza artificiale. Questo può essere interessante. Primo paragrafo, intelligenza artificiale, logos o metis. 1.2, non cogito ergo digito. Qua stiamo andando già sul latino, citazione latino. Consiglio da amico saltare capitolo 1 e andare direttamente al capitolo 2. Decentralizza et impera. Introduzione a web 3. Anche qua, se iniziamo, poi dal world wide web al world wide web. Gli abilitatori blockchain e bitcoin. Saltare. Qua vi fate una capoccia così, ci mettete un... Voi siete lì a letto che volete rilassarvi, non potete leggere sta roba qui. Capitolo 3, direttamente. Che fine ha fatto il metaverso? Vedete, questo è già un titolo che a me interessa. Che fine ha fatto il metaverso? Perché immagino che sia una sorta di quiz di mistero, una mystery stories, una di quelle stanze in cui ci sono l'assassino, però non si capisce chi è, quindi bisogna indovinarlo. Quindi, il che fin ha fatto il metaverso sembra interessante, anche se qua, digital digitus digitalis. Cioè, sto latino è fissato, questo Simone Porto deve essere fissato con il latino, però li vogliamo bene, che dobbiamo fare... Almeno questa parte ce la leggiamo. Poi aggiornamenti, ringraziamenti, poi colonna sonora, quindi qua c'è dei link interattivi per ascoltare musica, quindi interessante, possiamo farlo. E poi, We Are The Glitch, il Custom GPT, che immagino sia una sorta di videogioco di motociclette, Grand Prix, Custom Grand Prix, quindi probabilmente tu ti organizzi la tua motocicletta in base alle tue caratteristiche e giochi con degli altri utenti che hanno comprato il libro We Are The Glitch. Quindi io consiglio di andare direttamente al terzo capitolo, oppure vi leggete il finale, mettete il libro sul tavolo e quando uno arriva a casa vostra fate la figura degli intellettuali di quelli che hanno letto il libro di Simone Porto. Quindi spero di avervi convinto a comprare il libro, che ho trovato molto interessante, non l'ho letto ovviamente, però non si sa mai, magari quando ci incontrerò di persona con il caro Simone mi farà un sunto degli argomenti oppure mi recapiterà a casa magari un riassuntino che condividerò con tutti voi. Quindi comprate, fate comprare We Are The Glitch, può essere anche la strena del Natale 2024, lo potete comprare oggi e poi regalarlo per Natale, perché è sempre un bel regalo, poi anche viola in tinta anche con le festività natalizie. Quindi ciao a tutti, condividete il canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sugli ultimi aggiornamenti. Ricordiamo che lo sponsor di oggi è SED+, che come sempre finanzia i miei video e vi permette a voi di avere sempre delle novità aggiornate sulla letteratura del marketing e della pubblicità. Ciao a tutti e a presto!